Lissi vuol dire anche avere la possibilità di incontri meravigliosi e l'incontro meraviglioso che oggi mi è stato possibile è stato proprio con Fausto Vincenzo Colucci, anche lui uno scurcolano doc, un uomo incredibile che si è impegnato anche nella strage di Scurcola Marsicana. Quindi è per dire l'amore che molti uomini hanno di questo territorio, adesso che si parli di ecicchio, che si parli di un altro argomento, ma l'attaccamento alla terra che dimostrano i marsicani, credetevi, venendo da un'altra regione d'Italia, è veramente notevole e bisogna dare applauso che la Marsica è un territorio tutto da scoprire. Andiamo avanti, andiamo avanti, vi dovevo dare i saluti di Colucci, l'ho fatto con molto piacere e adesso c'è un personaggio particolare.